In Asia si deve andare, ha detto Papa Francesco ai giornalisti alla fine del viaggio in Brasile. E ora il Papa va in Corea del Sud a 15 anni dall'ultima visita di San Giovanni Paolo II in India. Cosa rende questo viaggio così importante? Direi che l'importanza di questo viaggio è legata essenzialmente a tre fattori. Il primo è il fatto che il Papa per la prima volta si reca nell'Estremo Oriente, una regione del mondo che acquista una rivela avanza sempre più accentuata nella politica e nell'economia mondiale. Va il Papa per rivolgersi a tutto il continente, non soltanto alla Corea. Certo, il viaggio per la Corea però ha come destinatari tutti i paesi del continente grazie proprio a questa celebrazione della giornata asiatica della gioventù che si svolgerà in Corea, alla quale parteciperanno rappresentanze dei giovani dei paesi vicini. E poi appunto il terzo aspetto è quello del futuro. La gioventura presenta il futuro, quindi il Papa si rivolge al futuro di questo continente, si rivolge al futuro dell'Asia. Nella sua esortazione Ecclesia in Asia, sempre nel 1999, Giovanni Paolo II scriveva che nel terzo millennio si potrà sperare di raccogliere una grande messe di fede da questo continente così vasto e vivo. Quindi, dici anni dopo, questa speranza si sta già realizzando? Beh, guardando un po' ai numeri, guardando alle cifre, forse dobbiamo dire, riconoscere, dobbiamo riconoscere che il cammino del Vangelo in Asia non è così rapido, così veloce come potremmo sperare, come speriamo. Sappiamo tutti che soltanto l'1-2% della popolazione asiatica professa la fede cristiana. E la Chiesa si trova in situazioni molto differenti, ecco, nei vari paesi, in alcune in situazioni più facili, in altre in situazioni più difficili. ma credo che dobbiamo avere uno sguardo che va dal di là dei numeri, ecco, e delle cifre, della quantità e riconoscere che c'è in Asia, nonostante l'avanzare dei fenomeni della secolarizzazione e del materialismo tipici del mondo attuale e di tutti i continenti, ecco, c'è un vivo desiderio di Dio, ecco, è presente questo desiderio di Dio, c'è una profonda sete di valori spirituali, ecco. C'è anche una grande vitalità nelle religioni le quali hanno dimostrato di sapersi adattare e cambiare anche di fronte alla mutevolezza della situazione. Ecco, tutti questi mi pare siano segni positivi che vanno nel senso indicato dalle parole di San Giovanni Paolo II che lei citava poco fa, nel senso che il Vangelo, appunto, viene a proporsi come un cammino verso la pienezza, ecco, a partire da queste aspirazioni profonde, spirituali e religiose, il Vangelo si propone come una pienezza che può dare risposta a questi desideri e a queste aspettative. La Corea da terra di missione è diventata terra da cui partono i missionari. Il viaggio di Papa Francesco potrà contribuire all'allargamento degli orizzonti asiatici di questa missione? Sì, molto bello vedere, ritroviamo quasi la freschezza della Chiesa Primitiva in questa esperienza della Chiesa Coreana che appunto da evangelizzata si fa evangelizzatrice, ecco, che da destinataria dell'annuncio del Vangelo si fa annunciatrice e testimone di questo stesso annuncio. ed è una realtà davvero consolante, sono circa mille, mi pare, tra sacerdoti, religiosi, religiose, laici, i missionari coreani nel mondo, sparsi nel mondo in circa 80 paesi dei vari continenti, quindi una realtà missionaria molto consistente e che è tuttavia in crescita. Ecco, Papa Francesco viene, diciamo, a promuovere, ecco, a rafforzare questo movimento già in atto, già presente all'interno della Chiesa Coreana e credo che lo farà nel modo che gli è proprio, sapendo come fin dall'esortazione, dall'inizio del suo pontificato, dall'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, ha insistito in questa dimensione missionaria della Chiesa, no? Ecco, la Chiesa in uscita, la Chiesa che va verso le periferie, esistenziali e geografiche, la Chiesa che deve portare a tutto l'annuncio gioioso del Vangelo, riprendendo quanto diceva Paolo VI nell'Evangelio in Unziandi, ricordiamo anche lui, proprio quasi alla vigilia della sua beatificazione, ecco che la Chiesa esiste per evangelizzare, quindi il messaggio chiaro, uno dei messaggi chiari del Papa sarà proprio questo, proprio per confermare e rafforzare questo movimento. cuore del viaggio sarà l'incontro del Papa con i giovani asiatici, che spesso in questa società competitiva abbandonano la Chiesa per cercare successo nella scuola e nel lavoro. Quale messaggio porterà loro, Papa Francesco? Il messaggio, io credo, che il Papa porterà a questi giovani e che devono diventare protagonisti, ecco, della vita della Chiesa. Quindi una presenza attiva, una presenza partecipe, ecco, una presenza fatta di collaborazione e di corresponsabilità. La Chiesa ha bisogno dei giovani, ecco, ce lo ricordava San Giovanni Paolo II, ce lo ricorda il Papa Francesco. Quindi un protagonismo all'interno della Chiesa e un protagonismo anche nella missione. I giovani, questa è la chiamata fondamentale, devono diventare evangelizzatori dei loro coetani. Quindi siamo sempre sulla linea della evangelizzazione ed è questo il messaggio che il Papa porterà, oltre naturalmente, all'insistenza sul non lasciarsi abbagliare, diciamo, dai valori effimeri delle nostre società e del nostro mondo e di trovare in Gesù la vera risposta ai loro interrogativi e alle loro inquietudini. Quale testimonianza possono dare alle giovani generazioni di cattolici asiatici i martiri coreani che Papa Francesco beatificherà a Seul? Questo è un altro motivo per il quale il Papa va in Corea, per la beatificazione dei 124 martiri coreani. Credo che va sottolineato il fatto come all'interno di questo gruppo c'è soltanto un sacerdote, ecco, mentre gli altri sono laici che esercitavano le più svariate e differenti professioni, dalle più umili, diciamo, alle professioni più in alto nella scala sociale. E questo ci riporta ad una delle caratteristiche della Chiesa coreana, e cioè il fatto che è una Chiesa nata dalla testimonianza e dall'impegno dei laici, ecco, che hanno saputo conservare e trasmettere la fede. Credo che questo è il messaggio fondamentale, cioè che nella Chiesa tutti siamo chiamati a collaborare alla missione di annunciare il Vangelo. E tutti siamo chiamati alla Santità, ecco, una Santità che si può manifestare in diverse forme, ma che deve caratterizzare l'impegno di ciascuno. Ecco, non si è cristiani se non c'è in noi questa tensione continua, quotidiana, verso la Santità. e questa chiamata alla Santità nella forma di una testimonianza sincera, autentica e totale, ecco, che può arrivare fino al dono della vita nel caso di coloro che hanno la grazia di essere chiamati al martirio. Ecco, è la consegna che il Papa farà a questi giovani e all'intera Chiesa coreana. La Corea può ben rappresentare speranze e problemi del continente asiatico. Il Papa visiterà un centro di recupero prezziabili e pregherà nel giardino dei bambini abortiti. È il grande sviluppo delle trigre asiatiche che ha portato però anche allo sviluppo della cultura dello scarto? Certamente, certamente, ecco, questo è un rilievo che possiamo fare. Ed è qui ancora una volta che la Chiesa può dire una parola, può offrire una testimonianza, la testimonianza della carità. Ecco, la carità è sempre stata, diciamo, uno strumento, usiamo questa parola, per annunciare il Vangelo, no? Ecco, proprio l'attenzione agli ultimi, l'attenzione alle persone vulnerabili, l'attenzione ai poveri, l'attenzione agli emarginati, a coloro che sono messi ai margini della società. È stata sempre una caratteristica dei cristiani e della Chiesa. e mi pare che nella realtà asiatica, nella cultura asiatica, questo possa avere un'incidenza particolare. Ecco, anche questi due gesti che il Papa compierà vanno proprio in questo senso, nel senso del compito missionario della Chiesa attraverso, diciamo, l'attenzione ai più bisognosi. Ecco, quindi, la carità come mezzo per annunciare il Vangelo, per annunciare concretamente il Vangelo in situazioni difficili, in situazioni di emarginazione. L'economista Thomas Han, che è stato anche abbasciatore di Corea presso la Santa Sede, ha fatto notare che la Corea è forse l'unico paese del mondo in cui la fede cattolica cresce di pari passo con lo sviluppo economico. Questo perché spesso si dice che con il benessere economico e il materialismo la fede diminuisce. Come leggere questa controtendenza nella società coreana? Sì, è davvero una controtendenza che in un certo senso, almeno personalmente, mi stupisce, ecco, mi stupisce, no? Perché quello che sperimentiamo normalmente è, diciamo, un certo abbandono, una certa indifferenza, ecco, da parte delle nostre società tecnologicamente, materialmente avanzate. ma io direi che l'interpretazione che se ne può dare, almeno l'interpretazione che ne do io, è che non c'è nessuna cultura e neppure la cultura contemporanea che è impermeabile al Vangelo. Ecco, qualsiasi cultura, anche quella che sembra la più refrattaria, diciamo, ha degli spazi, ecco, offre degli spazi in cui si può annunciare il Vangelo. e questi spazi sono quelli profondi del cuore umano, a fin dei conti. Ecco, l'uomo, io credo, è sempre lo stesso, no? In qualsiasi situazione si trovi, anche se evidentemente la cultura lo condiziona molto. Però, ecco, il cuore dell'uomo ha dei desideri, ecco, per ricordare Sant'Agostino, ecco, il nostro cuore inquieto finché non riposa in te e che non c'è nessuna, nessuna realtà materiale che possa soddisfare questa sete del cuore umano. Io interpreterei un po' così, ecco, anche queste società molto avanzate, evolute, da un punto di vista materiale, da un punto di vista tecnologico, ecco, però rimane questo desiderio profondo del cuore che non trova risposta adeguata nelle cose, nelle cose materiali e nel progresso. ed allora la Corea, ecco, ci offre anche una grande speranza, proprio in questo senso, nel senso che anche le nostre società che vivono la stessa realtà, anzi, che hanno anticipato queste realtà, però, ecco, possono offrire delle vie, sta a noi, ecco, la sfida grande della Chiesa è di trovare queste vie e di percorrerle fino in fondo perché l'acqua del Vangelo possa tornare a dissetare tutti i cuori degli uomini. Papa Francesco incontrerà i parenti delle vittime e i superstiti del naufragio del Sewol. La pastorale della tenerezza e della vicinanza a chi soffre può lasciare il segno anche in Corea? Sì, certamente, ecco, sappiamo che questo avvenimento luttuoso, drammatico, ecco, ha suscitato tanto dolore, no? Ha suscitato anche, ha aperto tante ferite e ha suscitato anche tante polemiche nella società coreana. Ecco, il Papa vuole dimostrare appunto che il metodo per lenire questi dolori e per cercare di curare queste ferite è proprio quello di stare vicino alle persone. Ecco, questo è il segno chiaro, questa vicinanza, no? Che è la vicinanza di Gesù a tutti coloro che soffrono, che è la vicinanza, deve essere la vicinanza della Chiesa a tutti coloro che soffrono. Quindi va anche in questo senso proprio questo gesto di carità e di amore nei confronti dei familiari delle vittime di questa tragedia. Il Papa chiuderà il suo viaggio in Corea che i Vescovi definiscono l'ultima vittima della guerra fredda con una messa per la pace e la riconciniazione. Questo viaggio di Papa Francesco potrà contribuire ad aprire canali di dialogo tra i leader delle due Coree e dare speranza ai cattolici della Corea del Nord? Questo lo speriamo. Questa è sempre stata la grande speranza della Santa Sede che si è impegnata anche concretamente in questa direzione. È una constatazione diciamo più che ovvia che la penisola è ancora percorsa da molte tensioni e che la penisola ha bisogno di pace e di riconciliazione. io credo che il viaggio del Papa aiuterà anche in questo senso nel senso di continuare in questa opera di solidarietà nei confronti delle popolazioni che si trovano nel bisogno nella necessità e di favorire ecco nella misura del possibile apertura di spazi di comunicazione e di dialogo perché io credo appunto ed è una convinzione che il Papa ha ribadito tante volte che soltanto attraverso questa comunicazione e questo dialogo si possono anche risolvere i problemi che ancora esistono e che se c'è buona volontà da parte di tutti ecco canali se ne trovano sempre. e che se c'è Grazie a tutti